Buongiorno a tutti, sono Aida e oggi in collaborazione con l'Agenzia Immobiliare Ralev vi proponiamo un affitto in pieno centro di Ammamet, si tratta di un appartamento S2 situato al secondo piano di questa palazzina in pieno centro della Medina, in pieno centro di Ammamet. Adesso facciamo due rampe di scale e arriviamo all'appartamento per farvelo vedere. Eccoci siamo arrivati al secondo piano, adesso vi facciamo vedere il nostro bell'appartamento, ripeto un appartamento nuovo situato nel centro, questo salotto con una panca tipo tradizionale molto bella, mi piace molto questo stile, poi abbiamo qua un angolo per mangiare, a sinistra abbiamo un tavolo con le sedie, poi di fronte vediamo la cucina tutta nuova, vi ripeto l'appartamento di nuovo, situato nel pieno centro di Ammamet, vicino a tutto, commerci, mare, centro storico, nuovo, poi si gira Adam, vediamo il terrazzo della cucina. La cucina è ben attrezzata, poi ha anche quel terrazzo che permette di stendere i panni quando c'è bisogno. Poi arriviamo alla parte notte, due camere, abbiamo la grande camera da letto, con una finestra che dà sulla strada ma con vetro doppio, quindi sonorizzato, abbiamo un armadio a muro in questa prima camera principale, poi abbiamo il bagno, vediamo tutti in nuovo, ovviamente qualche mobiletto del bagno manca ancora, ma l'appartamento sta per essere completato di tutto, anche le tende non sono tutte messe e poi la camera piccola, volendo ci si può mettere un altro letto, diventa un posto per due persone. Anche qua abbiamo un armadietto a muro a sinistra, quindi ecco torniamo, l'abbiamo vista da sotto, adesso rivediamo la strada, siamo in pieno centro, chi conosce un po' Ammamet ma anche chi viene, è veramente molto gradevolo il posto dove siamo, vicini a tutto quanto. Allora, un appartamento nuovo, anche i mobili nuovi, S2, vi è proposto all'affitto annuo a 1300 dinari in pieno centro di Ammamet. Ciao a tutti, ci vediamo in altri video!